Francesca Revisore Senza cooperazione non esiste progresso, ma in realtà cos'è il progresso? Secondo me una definizione molto bella di progresso è costruire un futuro che sia sostenibile e che sia pacifico per tutti noi, sulla Terra e oltre. E vorrei parlare proprio di questo con voi, partendo ovviamente nel micro, dalla mia esperienza personale. Io sono nata e cresciuta professionalmente occupandomi di attività spaziali e in particolare, come avete appena sentito, di esplorazione umana dello spazio. L'esplorazione umana dello spazio, lo sapete, è cominciata alla metà del secolo scorso come attività di tipo competitivo, l'Unione Sovietica, gli americani, quello che è la Moon Race, e piano piano è evoluta, è diventata qualcosa di molto più bello. Quello io trovo molto più interessante e quasi esclusivamente cooperativo, quindi una cooperazione globale. Lo vedete in questa bella immagine, la seconda, quella sulla destra. Questo è l'incontro di Expedition 37 e 38, i due equipaggi che si trovano sulla stazione spaziale nel 2013. Ci troviamo americani, russi, giapponesi ed europei, il nostro Luca Parmitano. Non so se ci avete mai pensato, ma da più di vent'anni non siamo più una specie unicamente terrestre. Infatti, nel novembre dell'anno 2000, è partita una spedizione verso la stazione spaziale, un equipaggio che poi ha dato il cambio ad altri equipaggi, uno dopo l'altro, e da allora, quindi da 22 anni, gli esseri umani vivono sulla stazione spaziale. L'immagine sulla destra, ancora una volta, è la nostra ultima missione, la più recente, il 26 aprile scorso, Samantha Cristoforetti, che è partita con i suoi colleghi sulla missione Minerva. Ma perché esploriamo? Beh, innanzitutto noi esploriamo perché nel nostro DNA. Io penso che questa sia una delle cose che ci rende più unici, forse che ci definisce di più dalle altre specie viventi. L'immagine che ho scelto, questa immagine di questa fregata, l'ho scelta forse più per me che per voi, per ricordarmi che non esiste soltanto l'esplorazione spaziale. Questa è una fregata Endeavour che nel 1915 si incagliò nei ghiacci dell'Artico che era andata ad esplorare. Quindi esploriamo perché nel nostro DNA, ma non solo. Esploriamo anche perché l'esplorazione dello spazio è un motore di tecnologia, di innovazione e quindi di benessere. Ma anche perché l'esplorazione dello spazio apre un mondo nuovo che è quello delle risorse che esistono sugli altri pianeti e sugli altri corpi celesti. Come potete vedere in questa immagine, secondo me è molto interessante, nonostante siano numeri, oggi quella che noi chiamiamo la space economy rappresenta 350 miliardi di valore. e pensiamo che da ora all'anno 2040 passeremo al triliardo, quindi a mille miliardi. Un'economia veramente importante, quindi lo spazio sta diventando veramente un'attività essenziale per noi sulla Terra. E proprio perché sta diventando così importante si stanno affacciando nuovi players. Nel passato erano soltanto, se volete, le istituzioni, i grandi paesi, i governi. Adesso no. E questa immagine che vedete, guardate la linea gialla, è molto interessante perché si vede che dall'anno 2020 gli investimenti privati nel settore spaziale hanno superato quelli di tutta l'Europa, quindi l'Agenzia Spaziale Europea e i suoi paesi membri. Questo è molto interessante, infatti cosa sta succedendo? Grandi imprenditori visionari, al di là di altre considerazioni, hanno cominciato ad interessarsi a investire nello spazio e a investire anche e proprio nell'esplorazione spaziale. Vi faccio due esempi, li conoscete tutti. Elon Musk con SpaceX, Jeff Bezos con Blue Origin, stanno investendo le loro fortune nelle attività spaziali. Perché lo fanno? Ovviamente non per filantropia, ma lo fanno perché pensano che nel prossimo decennio, lo pensiamo tutti noi, tutti gli addetti ai lavori lo pensano, l'esplorazione dello spazio sarà uno dei veri grandi motori dell'economia terrestre. L'esplorazione dello spazio cosa vuol dire? Vuol dire anche andare a cercare risorse sugli altri pianeti, ad esempio estrazione mineraria sulla Luna. E questo non è un concetto teorico. La NASA ha già assegnato quattro contratti ad industrie private chiedendo loro di portare entro il 2024 fare estrazione mineraria di regolite dalla Luna. La regolite è un aggregante tipo il calcestruzzo, dovete immaginare, che può servire proprio a costruire delle strutture sulla Luna attraverso il 3D printing che ci aiuteranno a stabilire una base e fare estrazione. Detto questo, i privati non sono e non saranno gli unici a ingaggiarsi nelle attività spaziali. Il settore pubblico è tuttora e continuerà a rimanere molto importante. Perché? Beh, innanzitutto perché i costi e i rischi sono enormi e il ritorno di investimento, anche questo è molto lontano, quindi i privati stentano a volersi veramente ingaggiare in queste attività. Ma c'è un'altra ragione che io trovo forse ancora più importante. Noi dobbiamo evitare che l'esplorazione dello spazio, l'utilizzo delle risorse sui corpi celesti si trasformi in un nuovo Far West, che questa nuova Space Race diventi un nuovo Far West. perché? Perché le risorse che sono sugli altri pianeti sono risorse di tutti e noi dobbiamo trovare un modo per regolamentare l'esplorazione dello spazio e l'esploitazione dello spazio, attraverso dei regolamenti che i governi devono decidere tutti insieme. Quest'immagine è un'immagine molto interessante, è la firma nel 1967 di quello che si chiama The UN Outer Space Treaty, il primo trattato che definì come si potevano utilizzare le risorse sui corpi celesti. Colpisce, almeno colpisce me, in questa immagine, che siano tutti uomini e io spero che alla prossima firma ci siano un pochino più di donne. Ora, detto questo, il messaggio di tutto quello che ho detto finora è che fondamentalmente il nostro futuro è nello spazio, ma non soltanto nello spazio. I nostri astronauti, tutti, quando tornano dalle loro missioni, ci dicono non soltanto quanto è fragile la Terra, quanto è bella, guardate questa bellissima immagine di una missione Apollo, Earth Rising, ma anche come la Terra, il nostro pianeta, in realtà non sia che una navicella, terra, un pochino come la stazione spaziale, e l'equipaggio siamo noi, tutta l'umanità. Però c'è una differenza fondamentale fra la stazione spaziale e il pianeta Terra. Sulla stazione spaziale l'acqua, l'ossigeno, le risorse, il propellente arrivano da Terra. Sul nostro pianeta no, il nostro pianeta può contare soltanto su se stesso. Quindi è fondamentale che noi troviamo un sistema per vivere su questo pianeta in un modo durabile, in un modo sostenibile. E questa è veramente la grande sfida su cui si basa il nostro futuro. Ora, per vincere questa grande sfida abbiamo bisogno di strumenti. Innanzitutto abbiamo bisogno di misurarla, di quantificarla, di capire veramente qual è il problema con dei numeri, con dei dati, e voglio farvi due esempi che vengono dalle attività spaziali, che sono uno di questi strumenti. Il primo è un programma Copernicus, forse ne avete sentito parlare, è un programma dell'Agenzia Spaziale Europea insieme con l'Unione Europea. Questo programma serve per monitorare il clima, ci dà delle informazioni estremamente importanti. Guardate queste immagini, in alto a destra quello che vedete è la deforestazione dell'Amazzonia nel giro di 30 anni, dagli anni 90 al 2020, la stessa zona dell'Amazzonia. In alto a destra i fuochi dell'Australia nel 2020 e sotto a sinistra l'isola Eagle nell'Antartico, che nel giro di un periodo brevissimo, dovuto a un'ondata di calore, in nove giorni ha perduto tutti quei ghiacci. E infine l'ultima immagine, io credo che l'ultima, quella in fondo a destra, l'abbiate vista più volte nei telegiornali durante il Covid, durante il lockdown. Questa è un'immagine delle sentinelle dei nostri satelliti di Copernicus e cosa ci dice? Ci fa vedere l'inquinamento atmosferico, quindi la grande differenza che esiste da un punto di vista di inquinamento quando ci sono attività industriali, sono quelle che vedete sulla sinistra, e quando queste non ci sono. È proiettata sulla Cina e sull'Europa, sull'Italia, in particolare la pianura padana. Un altro programma, questa volta che non ci dà i dati attuali, ma è un programma che stiamo preparando, molto bello, molto interessante, si chiama Digital Twin Earth. Questo programma lo presenteremo, lo proporremo ai nostri ministri alla fine di quest'anno e speriamo di farcelo approvare e di poterlo lanciare. Un programma, ancora una volta, dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Unione Europea. Qual è l'idea dietro questo? Noi vogliamo prendere i dati che vengono dai nostri satelliti, i dati che ci arrivano in real time, utilizzare le informazioni storiche, super computing, intelligenza artificiale, e con questo mettere insieme un modello dinamico della Terra che ci permetta di cambiare le variabili. Immaginate, aumentiamo la temperatura in Amazzonia, aumentiamo la temperatura dei mari, sciogliamo i ghiacci, e capire quali sono gli effetti a livello globale. Quindi un programma che ci permetterà di prevedere, non soltanto di misurare, ma di prevedere, e quindi speriamo anche di prevenire. Ora, di fondo, cosa ci dicono i risultati di tutte queste attività? Beh, fondamentalmente ci dicono due cose. La prima è che il problema è globale, è un problema che nessuno di noi può risolvere da solo, è un problema che nessun paese, neanche i paesi più potenti, più grandi, possono risolvere da soli, e quindi la cooperazione. E, in secondo luogo, che questo problema richiede una soluzione e un cambiamento al nostro modello di vita. Dobbiamo veramente cambiare il modo economico e sociale in cui viviamo. Ma come fare per trasformare e per cambiare questo modello? Ecco, il discorso è molto complesso e naturalmente non possiamo affrontarlo qui. Peraltro io non avrei neanche una soluzione, non credo che ancora abbiamo una soluzione a questo. Però secondo me ci sono tre elementi fondamentali che sono essenziali per riuscire a cambiare questo modello. Il primo, naturalmente, è una volontà politica. Ci vuole una volontà politica globale di lungo termine che affronti questo problema in un modo unico e serio. In secondo luogo, scienza e tecnologia. Abbiamo bisogno di investire in scienza e tecnologia, di innovare. E, infine, la cooperazione. Ecco, io voglio con questo ritornare al micro, alla mia storia personale. La mia intera vita professionale si è sviluppata alla luce della cooperazione. E devo dire che in trent'anni non mi ha mai deluso. Il mio team, io ho un team intorno a me, il team ristretto di quaranta persone, io credo che siano di almeno dieci nazionalità diverse. sono un pochino più di donne che di uomini e sottolineo il pochino più perché secondo me l'equilibrio di genere, di orientamento sessuale, di religione, di cultura, è fondamentale perché è quello che ci fa cooperare, lavorare insieme, che ci dà una forza incredibile e che ci dà anche una creatività pazzesca. Ecco, questa è l'esperienza che io ho avuto personale, ma non è soltanto una questione personale. L'Agenzia Spaziale Europea è stata creata proprio per far cooperare i suoi paesi membri e fare loro dei programmi che non sarebbero stati capaci di fare da soli. I risultati parlano da soli, sono dei risultati di cui dovremmo essere tutti fieri, noi italiani in particolare, perché l'Italia è veramente un paese trainante dell'Agenzia Spaziale Europea. Ho qui due esempi, forse li conoscete. Quella a sinistra è la missione del 2014, quando siamo atterrati sul nucleo di una cometa, e sulla destra quello che vedete è un programma futuro che noi proporremo proprio a novembre di quest'anno. Vogliamo andare a esplorare i giganti di ghiaccio, Urano e Nettuno, che sono coperti da una crosta di ghiaccio, ma sappiamo che sotto c'è del liquido, c'è dell'acqua, e vogliamo andare a trivellare, scoprire se quest'acqua contiene del DNA e quindi della vita. Ecco, queste missioni e in generale tutte le missioni dell'Agenzia Spaziale Europea, quelle presenti, passate e le future, sono tutte missioni in cooperazione. E attenzione, non si coopera per ideologia, o perlomeno non si coopera soltanto per ideologia, si coopera perché è l'unico modo, non solo per mettere insieme, per condividere costi e rischi, ma anche per trovare le migliori tecnologie, quelle di cui abbiamo bisogno, le tecnologie di punta, per mettere insieme i cervelli migliori e quindi per vincere, al di là delle attività spaziali, anche questa grande sfida, questa sfida immensa che abbiamo, che riguarda il nostro futuro. Come dicevo, la cooperazione per me è stato sempre il motore, quello che ha spinto la maggioranza delle mie scelte personali ed è anche uno strumento fondamentale e indispensabile, secondo me, per la pace. Quello che è successo il 24 febbraio, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, mi ha riempito veramente di tristezza, di scoramento, questo penso che sia successo a tutti voi, però mi sono detta che questo non ci deve far ricredere. La cooperazione pacifica è un principio indispensabile per il nostro futuro. Ora, nello spazio, nelle attività spaziali, noi continuiamo a cooperare, lo facciamo con grande difficoltà e spero che riprenderemo a farlo a tutto campo, in tutti i sottori, perché senza cooperazione non c'è progresso. Grazie. 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 Grazie.